500.000 euro a disposizione per il miglioramento degli edifici scolastici per quanto riguarda la vulnerabilità sismica, un impegno importante da un punto di vista economico dell'amministrazione comunale per quanto riguarda le scuole di Pescara. Quest'attività parte dal 26 gennaio con la quale abbiamo fatto un quadro di necessità su tutto il patrimonio immobiliare del comune e sull'edilizia scolastica per cui abbiamo stanziato già 100.000 euro per un progetto che riguarda 5 scuole e adesso verranno stanziati 400.000 euro per portare a compimento la vulnerabilità sismica su tutti gli studi, sulla vulnerabilità sismica su tutto il patrimonio che riguarda le scuole comunali. Nelle ultime ore erano arrivate però delle critiche al vostro lavoro da parte del Movimento 5 Stelle che aveva parlato di questo emendamento presentato che poteva prevedere tramite il Master Plan l'utilizzo di 12 milioni di euro. Guardi, noi non accettiamo insegnamenti dal Movimento 5 Stelle, nelle amministrazioni si parla con i fatti, i fatti sono dettati dalle carte, al di là degli emendamenti targati 5 Stelle a febbraio, l'atto principale è la delibera del 26 gennaio 2017 della Giunta Comunale che attesta quello che sto dicendo, cioè la Giunta che fa un resoconto della situazione e impegna la struttura dirigenziale a impiegare le risorse dell'amministrazione comunale prioritariamente su queste necessità, cioè sulla necessità di rendere sicuri gli edifici scolastici che oggi sono sicuri, è stato fatto un grande lavoro, al di là delle vulnerabilità noi abbiamo portato un pacchetto di investimenti sostanziale che parte dalla riqualificazione e l'adeguamento sismico efficientemente energetico della scuola Pascoli di Via Roma, la scuola di San Silvestro per 800 mila euro, un programma di manutenzione per 400 mila euro su tutti gli edifici scolastici, gli asili, la conchiglia e la mimosa, i nidi a Porta Nuova, in Via Benetto Croce e Via Vespucci per un importo di 600 mila euro, quindi tanto è stato fatto sul tema della sicurezza degli edifici scolastici e tanto faremo, perché crediamo che dopo anni di buio bisogna investire in maniera attenta e precisa su quello che è poi il futuro della nostra società.